Sempre nel corso del vertice abbiamo quindi detto che sarebbero partite immediatamente le prime missioni operative della struttura di missione, sia per dare seguiti concreti ai primi interventi che avevamo già condiviso con le nazioni interessate, sia per approfondire le proposte e i contributi che proprio dal vertice arrivavano da parte dei nostri partner durante i lavori. In queste settimane si sono svolte le prime missioni operative della struttura di missione, a Bruxelles chiaramente, poi tornerò su questo tema quindi per condividere anche a livello europeo il lavoro che stiamo facendo, poi la struttura di missione è stata ad Addis Abeba e in Costa d'Avorio. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori visite in Kenya, Marocco e Tunisia. In parallelo si sono svolte alcune riunioni con le principali istituzioni finanziarie e internazionali che secondo me saranno molto importanti in questo ragionamento. Io sarò questa domenica in Egitto insieme alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e alcuni altri primi ministri. C'è un'iniziativa simile a quella che abbiamo portato avanti in Tunisia, quindi il Memorandum of Understanding che stiamo portando anche in Egitto e in parallelo c'è un lavoro di invece cooperazione bilaterale che verrà formalizzata durante la giornata di domenica che riguarda il Piano Mattei particolarmente per la collaborazione in ambito agricolo e di formazione ma firmeremo anche una serie di intese di collaborazione nei settori della salute, del sostegno alle piccole e medie imprese e degli investimenti. Quindi diverse delle nazioni che noi abbiamo presentato come i primi progetti pilota che partivano per il Piano Mattei sono già state oggetto di missioni, contatto e di un lavoro che sta andando avanti.